Proprio nel giorno di San Valentino, nel giorno degli innamorati, Danilo estende il suo legame contrattuale con la Juventus, perché stando alla ricostruzione che ho effettuato in prima persona, quindi alle tracce che mi hanno portato a verificare, quindi ad avere una notizia, Danilo questa mattina ha rinnovato con la vecchia signora fino al 30 giugno 2025 con l'opzione per estendere eventualmente di un'altra stagione, quindi sicuro 2025, potenzialmente un rinnovo fino al 2026. Era nell'aria, era nell'aria questa firma, tra l'altro praticamente spoilerata dallo stesso Danilo oggi con un'intervista esclusiva a Tutto Sport, parole che fanno capire come questo ragazzo comunque ormai sia totalmente a suo agio negli usi e costumi della Juventus e evidentemente a livello progettuale anche la stessa Juventus che deve ripartire, riconsolidarsi, ha scelto di rafforzare questa investitura su Danilo, ma non dobbiamo dimenticare che Danilo è diventato praticamente il capitano della Juve, considerando gli stop di Danilo, quindi ha scavalcato gente che ha più presenza di lui qua, da Alexandro passando a qua in quadrado, finendo per lo stesso Wojciech Czesni. E io dico sempre che alla fine un leader al di là delle presenze, quindi al di là della mera gerarchia caratterizzata ai numeri, viene sempre scelto un vero leader dallo spogliatoio. E Danilo nello spogliatoio ha un peso specifico notevolissimo. Lo abbiamo anche capito poi dalle dichiarazioni dei suoi stessi compagni che ne sottolineano l'importanza. Poi c'è il campo. C'è il campo che ci dice come Danilo secondo me attraverso la meritocrazia sia riuscito a costruirsi un personaggio all'interno del globo bianconero. Danilo arriva tra lo scetticismo generale nell'ambito dello scambio con Joe Cancelo, scambio che per esempio io a livello tecnico non ho mai apprezzato perché ritengo che a livello di Terzini Cancelo sia molto molto più moderno. Poi il suo carattere, l'abbiamo visto anche nell'ultimo mercato che è finito negli ultimi giorni al Bayern Moraco, ma Cancelo è un giocatore che personalmente mi accende e se devo vedere una partita dove Cancelo gioca lo faccio sempre molto volentieri perché c'è sempre la sensazione che questo ragazzo possa creare qualcosina in più. Quindi quello scambio non è che mi piacque moltissimo, ma Danilo ha avuto l'intelligenza, anche chi lo ha allenato nei vari anni, di capire come invece il futuro potesse essere roso in un altro ruolo, in qualità di centrale e Danilo come centrale è il suo. A tre è perfetto come tempi di gioco, come mentalità, come anche in generale la sua visione di calcio perché Danilo è uno che sa spaccare le linee, sa inserirsi perché ha il passo del Terzino ma ha anche le giuste letture da centrale puro e devo dire che ormai quando parliamo di Danilo parliamo sempre di un centrale e che si giochi a quattro e che si giochi a tre, Danilo è quello e lo sa fare molto bene perché poi a tre può giocare sia a destra che a sinistra per favorire anche le varie rotazioni. Mi sembra che davvero questo ragazzo abbia fatto tutto ciò che c'era da fare per cementarsi ulteriormente all'interno del progetto bianconero. D'altra parte Danilo ha ancora tanti anni di carriera ad alto livello perché il 15 luglio compirà 32 anni e secondo me 32 primavere per un difensore nel calcio moderno sono pochissima roba, quindi c'è longevità e come. D'altra parte, fuitando questa notizia che la potete trovare su gol.com, sulla nostra home page come primo main, ho subito riscontrato come alcuni tifosi siano molto molto contenti che Danilo abbia deciso quindi di prolungare la sua avventura alla Juve, alcuni poi elogiano anche la stessa Juve che ha deciso di puntare ancora su Danilo. D'altra parte noi dobbiamo immaginare una Juve che al termine della stagione perderà altri giocatori importanti della storia recente juventina. Quadrato, Alexandro, a meno che non scatti la famosa presenza che farebbe scattare di un altro anno il contratto del brasiliano. Penso ad Adrienne Rabiot, penso ad Angel Di Maria, poi tutto può cambiare nel mercato ma ad oggi mi sembra uno scenario abbastanza improbabile quello che possa portare questi quattro giocatori a rimanere anche nella prossima rosa bianconera. D'altra parte da qualcuno devi pur ripartire, da qualche certezza, da giocatori che abbiano anche la voglia di rimanere a prescindere dal fatto che tu vada in Champions League, che tu vada in Europa League, che tu vada in Conference, a prescindere dal fatto che in generale possa esserci anche il rischio che tu nella prossima stagione le competizioni europee te le vedrai seduto alla casa. Quindi Danilo a livello di mentalità onestamente mi sembrava quasi ovvio che ad un certo punto arrivasse questo prolungamento, abbiamo raccontato tutti i dettagli anche a dicembre, abbiamo spiegato e rispieghiamo come non sarà un rinnovo né al rialzo né al ribasso, cioè Danilo lo stipendio che percepisce lo prenderà fino al 30 giugno 2025 sicuramente e con l'opzione per un altro anno in più. Quindi all'interno di uno spogliatoio c'è bisogno anche di rafforzare la leadership di alcuni giocatori che devono poi far capire ai più giovani cosa significa indossare una delle maglie più importanti al mondo. E beh, se entri in uno spogliatoio c'è Danilo, comunque lo rispetti. D'altra parte Danilo, a di là del fatto che stiamo parlando di un titolare anche della nazionale brasiliana, ha un curriculum incredibile, Manchester City, Real Madrid, non da protagonista ma è uno che ha vinto due Champions. Quindi è normale, è normale che poi si arrivasse a questa conclusione positiva e al tempo stesso, al tempo stesso, è anche uno scenario che ribadisco, quando era stato effettuato lo scambio Canselo-Danilo mai avrei pensato che potesse andare in scena. Però c'è anche da dire che Danilo, come abbiamo spiegato, ha avuto l'intelligenza di cambiare ruolo e chi lo ha allenato gli ha indicato la via maestra. Questi sono i rinnovi che puoi programmare, che puoi sviluppare, d'altra parte questa era già stata una traccia impostata ampiamente dal DS Federico Cherubini, poi ha insegnato i buoni rapporti, è vero che la Juventus sta vivendo delle vicissitudini mica da ridere, ma quando una traccia era così impostata serviva solamente che ci si stringesse la mano e poi si chiudesse questo discorso. Ora mi aspetto, in termini di negoziazioni, che possa arrivare l'accordo definitivo per Dan Kuizen, questo gioiellino che la Juve vuole blindare a tutti i costi, che la Juve blinderà a tutti i costi, questo ragazzo è un predestinato, sta già facendo anche molto bene con la Next Gen di Brambilla, ormai aggregato in pianta stabile della squadra che milita in Serie C, perché l'Under-19 per uno come lui non era più allenante, l'abbiamo visto anche in un test nel precampionato BIS, sotto lo sguardo attento di Max Allegri, che lo stima, che lo elogia pubblicamente anche a più riprese, Zed Huizen, che continua a effettuare qua e là qualche allenamento con la prima squadra, e quindi a livello gerarchico dopo Iling Junior, Barbieri, Mulazzi, Danilo. Mi aspetto che sia questo il prolungamento dietro l'angolo, quello più vicino, mentre per gli altri nomi bisogna attendere, bisogna capire, ma tra mille sfumature, tra Alexandro, Quadrado, Di Maria e lo stesso Rabiot, mi sembrano tutte strade poco percorribili. Fatemi sapere cosa ne pensate del rinnovo di Danilo.